E' un servizio gratuito che l'avvocatura ritiene di dover dare alla cittadinanza. Sarà operativo da marzo lo sportello del cittadino presso la casa dritta di via Garibaldi, un servizio nato dalla convenzione sottoscritta tra il comune di Arezzo e l'ordine degli avvocati. Lo sportello vedrà impegnato un avvocato nel ruolo di consulente di singoli cittadini o famiglie, che metterà così a disposizione della città le proprie competenze e professionalità. E' un'idea che nasce a livello centrale per la esigenza di fornire al cittadino un primo approccio alla giustizia, un approccio di orientamento. Questa è la finalità di questa operazione. A rotazione ci saranno dei colleghi, inizieremo noi del Consiglio dell'Ordine, per offrire questa opera di consulenza, di indirizzo su certe problematiche, non connesse al merito del giudizio, ma connesse all'approccio che il cittadino farà al giudizio, come avviare la sua richiesta di giustizia all'amministrazione e come poi installare il rapporto con il legale che lo assisterà. E' tutto quello che è connesso all'attività giudiziaria. Chi potrà accedere a questo servizio? Il cittadino. Il cittadino che avrà da chiedere lumi su quelli che sono appunto i rapporti, la stessa problematica relativa alle tariffe. Quali casi potranno essere presi in carico dallo sportello? La varietà è direi infinita. Noi riteniamo che le questioni relative alla famiglia possano essere quelle di maggiore richiesta.